Ciao a tutti! Allora, scusate la faccia sono piena di macchie non so il motivo c'è qualcosa che mi ha dato fastidio allora faccio questo video al volo e mentre sto caricando il mi preparo con voi della settimana scorsa che in realtà io ho posticipato perché ho avuto problemi di connessione, la connessione andava lenta quindi ho fatto oggi un giro a Lidl perché volevo prendere questo in questo momento è sottocarica perché si sta ricaricando è l'epilatore della Silvercrest ma da in Germany al solito io devo dire che l'ho già provato perché era già a carico l'ho già provato e non è male tende a togliere i peli anche più corti i più corti ha due velocità ed è è quella strappo il classico silk pill praticamente una dupe del silk pill e per il prezzo 19,90 euro per il prezzo è abbastanza buono si sgancia si sgancia di lato così schiacciando queste due cose qui di lato e si può pulire e viene venduto con la sua simpatica pochettina dove mette viola dello stesso colore c'era grigio c'era viola c'era bianco io l'ho preso viola ovviamente viene venduto con la sua pochettina dove mettere l'aggeggino e il caricabatterie per quel prezzo 19,90 euro è abbastanza buono prende anche per i più corti speriamo che le pinzette non si allentino dopo qualche utilizzo io però lo uso solo sulle gambe sulle cosce perché sull'inguine tende a crearmi questo qui questo pinzettante pinzettante senta me tende a creare peli incarniti quindi io evito di fare l'inguine faccio solo le gambe le cosce e perché siccome d'estate mi scoccia sempre star lì con la lametta con questo circa 15 giorni 20 giorni mi dura e quindi power ho fatto le mani l'altro ieri no venerdì non l'altro ieri venerdì questo qui è l'holipop di passione unghie è un fluo glitter è abbastanza bello questa è la mano quella che mi viene peggio la destra perché la faccio con la sinistra questa è la sinistra poi sempre da lì dell'oggi c'erano le lime allora queste lime sono fondamentalmente per le unghie naturali c'era vabbè una è scivolata via niente non fateci caso dunque c'erano la 1 la 2 la 3 praticamente è un set di lime che serve per lucidare allora c'è scritto unghie belle curate lima di vetro brevettata 3 lime standard per limare e lucidare le unghie sulle superfici a me interessava la lima di vetro perché costa un occhio da sola e queste erano tutte e quattro le lime 5 euro e quindi di solito la lima di vetro costa più di 10 euro quindi mi è convenuto poi ho preso vabbè un po' di elastici 1,90 euro sempre utili gli elastici io sempre più perché li vado perdendo cioè io ho 4.000 elastici e li vado perdendo regolarmente poi sono stata sabato dal centro commerciale che c'è da me e per prendere cercavo delle cose e sono passata da Bottega Verde hanno aperto il Bottega Verde prima c'era un altro negozio scusate i capelli ma oggi è così hanno aperto il Bottega Verde da me io della Bottega Verde non compro quasi nulla perché l'inci non è granché però l'inci di questi prodotti che sono gli stick labbra è ottimo ed erano in offerta a 2 euro e qualcosa questo è il pepe rosa buonissimo già l'ho provato questa è la mia amatissima rosa moscheta che ne avevo già preso uno e questo è il secondo perché era in offerta e questa è Argan e Iris buonissimo anche questo io li uso tantissimo anche in estate perché ho le labbra che tendono a seccarsi e lo uso tantissimo quindi faccio me li mangio il burro cacao quindi e quindi questo è quanto ho preso anche altre cose al centro commerciale sapete che ci sono pinki questi negozi così un po' di cianfrusaglie ho preso degli anellini insomma non vi faccio vedere perché dovrei andare di là è un casino avevo bisogno di un po' di shopping terapeutico sono un po' stressatina perché caramella è entrata in calore un mese e mezzo prima quindi mi sta dando noia infatti a fine maggio la farò sterilizzare perché non si può andare avanti così e quindi sono abbastanza stressata mio marito mi ha visto stressata e mi ha detto esci e infatti sono uscita quindi questo è quanto questi sono stati i miei acquisti di questo fine settimana e oggi da Lidl lo attendevo questo epilatore avevano fatto la pubblicità in tv attendevo questo epilatore da un po' è arrivato e quindi l'ho preso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao